Musica Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video vlogmas numero 18 Con l'Italia Mi qui, mi qua Mi qua, calmati E Fulmina che è agitato Allora oggi portiamo i ciwi al par Fa la passeggiattina Perché Papi è qua con noi, vero, ciwi? Vai, vai Vediamo In Cricola perché da oggi è in feria Ciao Vi saluta, sta giocando a Assassin's Creed E quindi è concentrato, io ho tutto basso il boomer No Il copyright Ecc Vi adesso Finalmente Si è aggiornato il copyright studio Quindi vi posso finalmente rispondere in tempo Quindi mi arrivo direttamente le notifiche Quindi vi posso anche direttamente rispondere velocemente Chi si era accorto da ieri che è tutto Quindi ogni volta che mi arriva un vostro commento Lo vedo subito nel cellulare Se non lo vedo Perché non sono davanti al telefonino O sono davanti al computer Quindi lo posso leggere tramite lì E io Fulmina Ciao a tutti Bentornati a nuovo video Vlogmas Cipomino Io sono Fulmina E sono fashion Allora Che mi raccontate? Tra poco Natale Manca una settimana Meno sette giorni E non sette giorni è Natale Meno sette giorni E conta Fulmina Che ha sette giorni E Capodanno L'anno nuovo Quindi due settimane E Capodanno L'anno nuovo Ma si? Diciamo Come vuole il tempo Si Quindi ci vediamo dopo Che andiamo a fare la passeggiata Promesso Papà ce l'ha promesso Ciao Ci vediamo dopo Ciao Eccoci al parco Ciao Italia Fulmina Ciao Allora Eccoci ritornati Abbiamo dovuto interrompere lo secondo Che sono le ragazze Fulmina Fatti vedere Fulmina Si ciao Vabbè lascialo stare dai Qui Ciao amore Ciao Ciao Vieni Vieni Italia Diamo Ciao Dì ciao Ciao Diciamo che fa freddo Parecchio freddo Quanti grandi ci sono? No Però qua Pagando E certo Siamo sotto il sole E beh io adesso i soldi non ce ne ho più nel telefono Quindi dopo facciamo la ricarica Vediamo un po' Quattro 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 Quindi sì Quattro gradi Fa freccio però Molto freccio Vi faccio vedere un po' Vi faccio vedere un po' Il sfondo Vi faccio vedere un po' 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 anche Nicola? No, ti ho saltato perché stavo facendo vedere il parco. Guarda quanta bella malinatura tutta qua. Questo tutto è il parco, non mi chiedete quanti chilometri è perché non lo so, non so, due e mezzo, tre. E adesso io gli ripesti. Vedete che gironzolo. Adesso andiamo a fare una passeggiatina ancora. Ci vediamo più tardi, tra poco. Eccoci tornati dopo una bella passeggiata, poi ci siamo fatti altro. Qui c'è Italia e Fulmine. Allora, ci vediamo domani perché andiamo al mercato, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo domani, mi raccomando iscrivetevi a tutti i due canali e ci vediamo domani. Ciao, ciao.